ingredienti 300 grammi di farfalle 300 grammi di punte di asparagi 100 grammi di piselli 200 grammi di gamberi sgusciati e crudi 2 cucchiai di maionese 2 cucchiai di succo di limone 4 cucchiai di panna sale e pepe preparazione lessare le farfalle scolarle al dente passarle sotto acqua fredda e porle in una insalatiera lessare separatamente i gamberi i piselli e gli asparagi in acqua bollente scolarli tagliare a tocchetti gli asparagi ed unire tutti gli ingredienti alla pasta in una terrina diluire la maionese con il succo di limone incorporare la panna e mescolare bene condire l'insalata di pasta con la salsa e servire fredda regolando se necessario sale e pepe il piatto è pronto buon appetito